Va bene? Perfetto Andava bene? Ok Un paio di autografi è possibile Perché se no mia figlia Credo che potrebbe Da? Sì, sì Uno passante E uno per Cianciu Per Cianciu Cianciu Questo invece è per Sande No, no, la tagliamo Scusa, un secchio di odio? Sì Perché purtroppo Sei com'era Quindi non prima della prossima settimana Grazie Grazie